Ciao ragazzi, sono Savio Cavalli, sono qui per ricordarvi un grandioso appuntamento. Giovedì 31 ottobre dalle 20 e 30 alle ore 23, su questa emittente inauguriamo la nuova televisione napoletana, sì! Dove interverranno tanti artisti, anzi, sei un artista, vuoi deliziarci con una tua canzone, vuoi venire a farci gli auguri? Tashptam, giovedì 31 ottobre dalle ore 20 e 30 alle ore 23, presso gli studi di TLC Telelibera Gambani, lo sai, siamo ad Aversa. Quindi non mancate, tutti gli artisti che vogliono intervenire come ospiti per regalarci una bella canzone, lo possono fare, ripeto, giovedì 31 ottobre, Guardiù però non vi scordate, è Halloween, quindi però venite senza immascere perché ci amma divertì, grande inaugurazione, sì, presso gli studi di TLC Telelibera Gambani, siamo ad Aversa per inaugurare la grande televisione Neomelodica TV, volete sapere come va avanti la serata?